Ora dobbiamo raccontare che gli alpini vengono anche a partire dalle risaie verso la montagna. Sezione di Vercelli! Sei medaglie d'oro al valore militare sul vestillo della sezione di Vercelli, tanto per capirci, tanto per capire con chi abbiamo a che fare. 1924, data di fondazione, una sezione fra le più antiche, 631 alpini, 224 amici degli alpini, 17 gruppi. Alpini della sezione di Vercelli. Io voglio ricordare alcune cose. Allora, anzitutto, gli alpini della sezione di Vercelli sono anche gli alpini di quel don secondo pollo che fra dieci giorni esatti verrà ricordato nella celebrazione del ventesimo anniversario della sua beatificazione, il primo santo degli alpini, il 23 maggio 2018. Don secondo pollo, primo beato alpino, verrà ricordato nel ventesimo della sua beatificazione e con una grande manifestazione alpina a Vercelli. Voglio anche ricordare che Vercelli sarà la città che ci accoglierà a ottobre nell'organizzazione del raduno di raggruppamento, del primo raggruppamento, cioè di tutti gli alpini del nord ovel d'Italia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Cari vercellesi, saremo tutti lì, saremo a celebrare Don Pollo, ci saremo fra dieci giorni, ci saremo a ottobre. Grazie alpini di Vercelli! Questo Piemonte che non finisce mai è assolutamente meraviglioso. Siccome era proprio vero che l'Italia sa più bene la gioventù, evidentemente...